non vi avevo ancora informati e zio puttana ieri sa avevamo troppo gas ma per fortuna non troppo ne abbiamo preso una multina vabbè capita facciamo solo i 70 i 73 al posto dei 250 porco boia bastardi paletta ma è ancora andata bene che ci hanno solo fatto l'autovelox mi hanno trovato la droga gas previa preprima via con lo zaino nuovo da inaugurare facciamo la vacuum la via la via this is how we do perfetta this is how we do eccoci qua all'attacco di L5 siamo a due pare per l'orario qua un tiro spaziale eccoci qua all'attacco di L6 l8 siamo in sosta tra tire via fantastica cioè a dir poco l10 9 e un quarto vedo e scopro di avere le luci accese del furgerz bella per noi stiamo a piotte season gas più magnesite alla rovina guarda un po' però chi è che ti vede arco illuminata così gas? parete si vede anche un botto 9 e 15 vetta sommita brutto della fine via porca boia via incompiuta che abbiamo compiuto mamma c'è senza parole più che altro abbiamo sete andiamo via che siamo fa un po' vedere arco illuminata arco è belle che è lì guarda che cozzata noi siamo qua a piotte che dobbiamo fare le corde dobbiamo muovere il culo uoi alieni abbiamo trovato l'acqua alla bellezza delle 10 meno 10 rovinati rinfrescati ora bagno in fiume era nell'altro era orizzontale ah era così? vabbè ora bagno il fiume lef gelata pacchetto di patate è tipo una cena di un chilo di pasta aliena ciao ciao attenzione ieri abbiamo lasciato le luci del furgo acceso adesso vediamo se riesce a partire vai vai gira gira aliena stiamo più a terra ci siamo ci siamo eccole qua eccole eccole qua eccole cozzate eccole dire cozzate le luci del furgo e monta in silfurlo con Sam ibernato dalle correnti alto tesi eccole 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 Grazie a tutti E poi siamo girati là dietro E calate di là E niente stavamo valutando lo schifo Che è rimasto in questa pentola Però vedete Cioè facendo a mangiare c'è già il condimento È una questione di Pigrizia uguale invece Comodità Mettiamo il tappo Che ci piottiamo la pasta Perza Grazie a tutti